Tempo di vacanze, ma tra chi parte e poi torna, chi ancora deve partire, chi le ferie le trascorrerà senza muoversi dalla città, c'è sicuramente un buon numero di udinesi di tutte le età che hanno bisogno di fare qualcosa. Le temperature alte non invogliano ad uscire di casa, ma a questo ha pensato il Comune, con le oasi climatiche nei parchi pubblici e i luoghi di aggregazione in particolare per le famiglie con bambini piccoli e per le persone anziane. C'è anche una mappa, il Comune ha presentato nei giorni scorsi la mappa di quelle che sono le aree della socialità. Siamo qui adesso nel giardino della sezione ragazzi, che è una delle oasi climatiche, insieme proprio anche ai giardini del Torso e al giardino del Museo Friulano di Storia Naturale. Quindi ci sono delle possibilità, delle occasioni, insomma, per stare all'aperto, al fresco, con un buon libro dal 19, con un gioco, in compagnia di un gioco, in altre occasioni. Nei parchi della città, attraverso il ludobus cittadino, c'è un ricco programma di attività che vede toccare praticamente quasi tutti i parchi della città, più centrali o anche nelle periferie. Una delle oasi climatiche è il Parco del Torso, un piccolo spazio verde a pochi passi dal centro, frequentato da persone di tutte le età, con la ludoteca che vi si affaccia. Porto i bambini qui più di qualche mattina o pomeriggio, sera. Come lo trova? È uno spazio molto accogliente per i bambini, dove loro si divertono e passano qualche ora in pace, tranquilli. Anche in ludoteca? Anche in ludoteca, esatto, sì. E approfitto per giocare anch'io e tornare un po' bambino anch'io, come loro. Come si trova in questo parco di Udine, dove si può respirare un po' di aria fresca? Mi piace molto, molto spesso veniamo qui con il mio bimbo e lui gioca, gli piace molto, si trova molto, molto bene e ringrazio le città per questa possibilità.